Il futuro dell'agricoltura si iscrive in Toscana e sarà al centro della settimana dell'innovazione nello sviluppo rurale, l'evento annuale del programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 del FEASR, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 26 al 29 marzo. Nuove tecnologie, cambiamenti climatici e politica agricola comune dopo il 2020 al centro dell'evento, a cui saranno presenti i principali protagonisti dell'innovazione in agricoltura, tra cui i rappresentanti della rete europea ERIAF per l'innovazione in agricoltura, di cui la Toscana è capofila, con un obiettivo preciso. Capire cosa possiamo fare insieme, unendoci e verificando quali opportunità possiamo portare avanti per l'agricoltura, per la forestazione e per lo sviluppo rurale della nostra regione. In un contesto, ripeto, ampio, alto, nel quale anche il mondo accademico che sarà presente potrà dare un grande contributo. L'evento si aprirà con un seminario sull'attuazione del programma di sviluppo rurale della regione toscana e sarà l'occasione d'incontro tra i partner dei progetti europei per l'innovazione nello sviluppo rurale in cui la Toscana, leader del partenariato della Smart Specialization Strategy per l'agricoltura di precisione, gioca un ruolo di primo piano. Con questo evento la regione toscana intende promuovere e facilitare l'incontro tra le regioni europee per confrontarsi e dibattere sulle strategie da mettere in atto proprio per favorire l'implementazione in agricoltura. Noi sappiamo che l'agricoltura è l'elemento dell'innovazione fondamentale perché l'agricoltura ha davanti a sé molte sfide, tra le quali quelle della sostenibilità ambientale, ma non dimentichiamo la competitività delle imprese agricole e nemmeno la vivibilità delle erere rurali. Sfide che nell'innovazione possono trovare risposte importanti e che saranno toccate con mano nella giornata finale dell'evento annuale con la visita studio a tre realtà toscane cofinanziate con il programma di sviluppo rurale della regione toscana.